Sei barzellette per una risata garantita. Perché i poliziotti di Hong Kong amano andare al lavoro presto? Per picchiare la folla. Mia moglie è davvero arrabbiata perché non ho senso dell'orientamento. Allora ho impacchettato le mie cose e sono partito verso destra. Non importa quanto sei gentile, i bambini tedeschi sono sempre più kinder. Quale parte della verdura non dovresti mai mangiare? La sedia a rotelle. Abbiamo di nuovo sbagliato il kerning, ragazzi. Così ho fatto un grafico di tutte le mie relazioni passate. Ha un asse delle ex e un asse del perché.